ciao a tutti ragazzi sono JDM in questo nuovo video andremo a vedere come creare degli autoparlanti bluetooth per smartphone e pc come sempre invito chi non si fosse ancora iscritto a farlo se gli va soprattutto per ricevere le notifiche dei miei nuovi progetti e magari anche a condividere e lasciare un bel pollice in su beh dopo aver detto questo direi di passare al progetto di quest'oggi ciao 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 bene ragazzi andiamo a vedere cosa ci servirà per questo progetto batteria ricaricabile da 3,7 volt per 3000 mAh poi battery box per la batteria modulo bluetooth xs3868 mini amplificatore audio modulo caricatore con attacco mini usb ed un interruttore poi vi lascerò i link per acquistare questa roba in descrizione bene partiamo ora ciao 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 bene ragazzi direi di andare subito ad effettuare il test dei nostri autoparlanti sicuramente avrete notato questo segno qua è una dedica l'ho fatta a mia moglie dato che finiranno nelle sue mani bene andiamo subito ad accendere gli autoparlanti e quindi connettiamo il modulo tramite ecco qua bluetooth ecco lì attuali su avviso voici Ok, proviamolo anche un po' con il PC Accendiamo, eccolo qua, andiamo ad associarlo, connesso, bene Ok, proviamolo anche un po' con il PC Bene, direi che funziona benissimo Bene ragazzi, anche per questo video è tutto È stato un piacere, alla prossima Ciao da JDM